Coronavirus prosegue la vaccinazione dei bellunesi. Ad oggi le dosi somministrate in Uls Dolomiti sono più di 216.000 e il 66% della popolazione vaccinabile, pari a oltre 121.000 persone, ha eseguito almeno una dose di vaccino anti-Covid. Il 56,8% della popolazione ha ricevuto il ciclo completo di vaccinazione e le persone già prenotate per l'immunizzazione sono circa 7.000. L'Uls Dolomiti segnala la riorganizzazione di alcune attività ospedaliere. A Feltre le degenze di neurologia e pneumologia sono state trasferite al sesto piano del padiglione Dalla Palma, con la precisazione che le due unità operative manterranno i rispettivi posti letto attuali, 10 di neurologia e 20 di pneumologia. A Belluno invece l'attività chirurgica programmata di urologia che richiede degenza è stata temporaneamente sospesa. All'ospedale di Belluno verranno garantite le attività ambulatoriali e le consulenze 7 giorni su 7. La temporanea sospensione si è resa necessaria per la carenza di personale e un'assenza per malattia che riguarda specialisti in urologia. L'azienda, assicura l'Uls Dolomiti, oltre alla convenzione con l'Uls Uganea, continua a perseguire tutte le strade possibili per reperire personale.